Ci ha traghettato nell'ultima mezz'ora circa di trasmissione di questo Touring Caffè di martedì 10 novembre e come vi avevo promesso, in effetti chiudiamo con un ospite che ci darà sicuramente tante notizie su vicende che in questi giorni davvero ci hanno colto alle spalle come pugnalate ma di quale tra parentesi molte cose si sapevano. Buongiorno Luccio Azzarà. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Bene, non la vedo, adesso la facciamo vedere perché ogni tanto qua il video, noi curiamo la regia. Siamo in diretta, non è un problema. Siamo in diretta. Il bello della diretta. Esatto. Lei poi tra parentesi, anzi posso, come ti avevo promesso, ti ho del tu, il bello della diretta l'hai potuto anche verificare nella giornata di domenica, nel corso della giornata non è l'arena. in quella che è stata la presenza opportuna, inopportuna, del ex commissario alla sanità Cotticelli. Una situazione che poi in effetti è stata, però ci ha offerto davvero tante altre informazioni. Quale situazione, vivendola in quel momento, avendo anche la possibilità di interloquire direttamente, non solo con l'ospite ma anche con i giornalisti presenti, ha avuto da quella situazione? Eh ma guarda, le considerazioni che scaturiscono da quella trasmissione sono molteplici. Intanto la prima considerazione è che non riesco bene a decifrare se è più pesante, più drammatica, più incisiva. La prima trasmissione è quella di Titolo Quinto, oppure quella di Giletti, perché entrambe le trasmissioni hanno offerto intanto un'immagine drammatica di tutto ciò che ci governa, di tutto ciò che sovrintende al destino, alle cose più delicate della nostra vita. Questo è il primo impatto, il primo, come dire, la prima sensazione che mi viene, che sgorga spontanea. Poi in trasmissione ho avuto il modo di dire che al di là del fatto, ormai ci dipingono sempre come calabresi arrabbiati. I calabresi non sono solamente arrabbiati, ma riescono anche a elaborarla la propria rabbia. Certo, certo. Sono capaci di ragionare, sono capaci di distinguere. E alla rabbia, in quella trasmissione ha fatto posto la nausea. Vedere un uomo che ha comunque avuto grandi responsabilità in passato, tra le altre cose, vestire una gloriosa divisa che è quella dell'arma dei carabinieri, sicuramente non ha fatto onore né a lui, ma soprattutto all'arma. E poi l'altra considerazione è che un uomo della sua portata sarebbe dovuto andare non in trasmissione da giretti, ma sarebbe dovuto andare dritto di filato in procura a denunciare le cose. Perché i calabresi, le persone per bene, vanno e denunciano i fatti. Non hanno paura di denunciare quanto di indrangheta e quanto di massoneria c'è nella sanità. La sanità è intrisa di queste cose. Quindi i cittadini si aspettano di essere governati, ma si aspettano anche dei buoni esempi. E quello del generale Cotticelli sicuramente non è ascrivibile a quello che può essere definito un buon esempio. Certo. Anzi, tutt'altro. Che poi le tue parole... La tua accusa nel corso della trasmissione è stata precisa e indirizzata. Tu hai detto che l'azienda sanitaria provinciale è stata sciolta per mafia e ora i commissari i prefettizi in piena emergenza coronavirus si sono autorizzati la non presenza all'interno dell'azienda. Quindi mancano al comando delle loro postazioni. Cosa che... Questo, Walter, era una denuncia che addirittura era quasi profetica. Certo. Che è avvenuta nel corso di altre trasmissioni da Giletti nel marzo di quest'anno. dove noi io denunciavo l'assenza sul campo perché se è, come dice Sileri, che questa è una guerra, ebbè allora ho definito la loro quasi un'assenza codarda, un'assenza dal campo di battaglia da parte di chi ha responsabilità. E questa assenza era poi stata documentata ampiamente da servizi anche televisivi, sia della triade commissariare, sia da parte del commissario straordinario Cotticelli. E poi ricordiamo appunto... Certo, ricordiamo tu il precedente intervento forte a marzo appunto in relazione a quello che era venuto fuori da una trasmissione delle Iene che avevano compiuto un sopralluogo, chiamiamolo così, negli ospedali di Locri e Polistena e nel corso del quale appunto hai denunciato questa situazione, uno scempio, una non presenza delle istituzioni e delle responsabilità precise, circostanziate di chi in quel momento svolgeva la funzione di commissario anche sull'ASP appunto di Reggio. Una situazione che però è rimasta lettera vuota insomma. E questa è la cosa che fa più scalpore, cioè da marzo ad oggi ci sarebbe stato tutto il tempo, tutta la possibilità, ma c'erano anche, voglio dire, le risorse economiche per poter arrivare a questa seconda ondata preparati. Ma infatti fondamentalmente, il mio era un grido d'allarme a marzo per dire guardate, per adesso i contagi ci stanno solo lambendo, ma qualora dovesse arrivare un'ondata, un'onda tutto seria, le strutture sanitarie calabresi non sono in condizione, in grado di poter sopportare quello che è successo a Bergamo, quello che è successo in Lombardia, non siamo nelle condizioni. Poi vedere in diretta che il rimpallo di responsabilità tra i diversi livelli che sono quello governativo, perché non bisogna dimenticare che nel momento in cui la sanità in Calabria è commissariata, vuol dire che è stata tolta a livello regionale, è stata richiamata a un'autorità superiore che è quella dello Stato. Undici anni di commissariamento governativo in Calabria hanno portato questo scempio, hanno portato a questa deriva. Ma le responsabilità sono molteplici perché i piani Covid erano in un primo tempo, come dire, di pertinenza della regione perché la protezione civile nazionale aveva demandato alla defunta governatrice Iole Santelli questo compito e gli aveva detto approntate 400 posti di terapia intensiva, dovete assumere 300 medici, dovete assumere 270 infermieri, 200 OS, lettera morta. Dopodiché a giugno il nostro commissario Cotticelli prepara il suo piano, lo manda al governo centrale, il governo centrale lo sposta sul commissario Arcuri, il quale demanda a ottobre, ieri, praticamente ai commissari delle ASP e delle aziende ospedaliere, quali soggetti attuatori, quelli di realizzare questo piano. Diciamo che la timeline... Non abbiamo effettivamente un'applicazione. Non abbiamo nulla. Certo. che tutto ciò sia avvenuto a sua insaputa, come è avvenuto in alcuni casi di appartamenti o di navi che sono stati dati a qualcuno. Sì, 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 ma lui al di là di ogni cosa non bisogna mai infierire su nessuno, ma ha responsabilità come uomo di Stato, come uomo di istituzioni, appena lui notava che non era stato messo nelle condizioni di operare avrebbe dovuto rimettere il mandato, andare in procura, andare dal procuratore Gratteri, il quale il procuratore non ha necessità della stima di alcuno. Cioè il procuratore, al procuratore, a lui, al nostro procuratore Giovanni Bombardieri non serve la stima. Se c'è benvenga. Ai procuratori noi dobbiamo portare le denunce. Informazioni, denunce, certo. Ora è troppo facile, ora è troppo facile denunciare e parlare di menti raffinatissime che stavano dietro questa sua defenestrazione. Lui non doveva andare da giretti, lui doveva portarsi per obbligo qualunque cittadino è a conoscenza della commissione di un reato, all'obbligo per legge di portarsi presso le procure. Certo. Questo è il compito del cittadino, immaginiamoci invece un'istituzione, un'istituzione quale quella, un compito così importante come un commissario straordinario. Con un passato da generale dei Carabinieri. Ma figuriamoci. No, io voglio fare un attimo l'avvocato del diavolo. Non me ne voglia il generale se ne parlo come diavolo, ma giusto per dargli un attimo credito a una tesi che vede infatti la sua presenza come commissario in Calabria in base a quella funzione che aveva svolto comunque in maniera meritoria appunto come generale. per far fronte ad un'emergenza quella per cui era stata commissariata la regione, ovvero della presenza mafiosa all'interno dell'istituzione sanità per quanto riguarda le assunzioni, per quanto riguarda gli appalti, per quanto riguarda direttamente proprio la gestione ospedaliere. Ora, in quel ruolo forse, io non so, andando a vedere anche, c'è stata sicuramente una certa operatività diretta, indiretta, ma comunque improntata a questa problematica. È che nel momento in cui si è trattato di affrontare un'emergenza in cui era richiesta conoscenza tecnica e anche manageriale, il suo ruolo era assolutamente iniquo. Ma assolutamente, guarda, io mi vengono in mente in questo momento, così ascoltando le tue parole, quello che amava dire il giudice Falcone a questo proposito e diceva che laddove governa l'Andrangheta e la mafia, nei posti chiave strategici si mettono degli emeriti cretini, ma voglio dire, questo lo diceva lui perché lo registriamo, ma sta venendo fuori prepotentemente con queste trasmissioni, che nei posti chiave, nei posti dove la responsabilità e la competenza, una parola sconosciuta, dovrebbero fare la differenza. Invece si è capito che è stato posizionato, che è stato allocato in quella posizione importantissima un uomo inadeguato che tutto sommato si è sfruttata forse la sua immagine di generale dei carabinieri come pezza per coprire un buco o per continuare a governare liberamente gli affari che nella sanità ci sono. Non bisogna dimenticare che la parte preponderante del bilancio regionale calabrese è fagocitata dalla sanità, il 70% del bilancio, 3 miliardi e mezzo, quindi noi siamo abituati a pensare che l'Andrangheta segua questo filone che sono il flusso di denaro e il giudice Cratteri dice che l'Andrangheta lucra più con i soldi della sanità che con i soldi del traffico degli stupefacenti. Beh, sì, sono cose che poi in un certo qual senso noi potremmo anche decifrare vedendo lo status quo, perché poi in effetti tante piccole situazioni, se noi le andiamo a sommare, anche tante inchieste, tanti risultati di inchiesti portano su queste tracce. Come questione poi in linea di massima per venire fuori da questa situazione, forse non è il caso che più che andare a vedere i curricula, che poi sono cose certo che ci danno una lettura della preparazione di un soggetto, forse non è il caso di andare a vedere i risultati, che è un soggetto che può anche non avere un curriculum esorbitante, ma che ha ottenuto dei risultati in un determinato campo. Abbiamo avuto in alcuni casi in altre regioni, per esempio casi di questo genere, in cui l'attività di gestione, di amministrazione, di management di attività sono state svolte da soggetti che per esempio venivano da strutture private, da gestioni economiche complesse, ma che non avevano poi curriculum così importanti. Mi pare che questo che stai facendo è un ragionamento estremamente logico, però che non risponde a quello che è il pensiero, la logica del sistema. Il sistema è in tutt'altre faccende affaccendato. L'unica cosa che è positiva è che l'arrivo di questo virus, un'entità estremamente invisibile, impalpabile, sta riuscendo a scardinare tutte queste metodologie, questa visione e quello che non consente di avere un minimo di organizzazione per fronteggiare le cose, ecco va utilizzata, va sfruttata, va messa in modo tale che si riesca a poter avere un minimo di equipaggiamento, un minimo di struttura per fronteggiare questo. Però se tanto mi dà tanto e alla defenestrazione e alle dimissioni di Cotticelli si sostituisce con un altro personaggio in cerca di autore, ebbè vuol dire che veramente nella Calabria c'è così scarsa considerazione da mettere un personaggio che già, voglio dire, alcuni video sono virali sulla rete e si tocca con mano, come dire, lo scarso rispetto che si ha della vita umana, le scarse conoscenze anche scientifiche di chi dovrebbe essere preposto a governare processi abbastanza complicati. Certo. E allora, però, attenzione, perché c'è un altro aspetto, la gente si sta, sta passando dalla indignazione, dall'arrabbiatura, sta passando veramente alla reazione vehemente sul campo, la manifestazione di Reggio Calabria di qualche giorno fa, composta, civile, ma ieri ce ne sono state due, una a Cosenza e una a Catanzaro dove c'è stato un ferito. Qua tutto può spociare anche in un problema di ordine pubblico, perché la gente sta pagando oltre che sulla mancata fruizione di un diritto sacrosanto, che è quello della salute, ma sta vedendo e sta toccando con mano che il lockdown tocca elementi ancora più stringenti, l'economia, il poter andare avanti, il poter sbarcare il lunario, il portare, come dire, il cibo a casa. E quando un padre di famiglia dovesse aprire il frigorifero un giorno e lo trova completamente vuoto, e beh, là non ci sono ragionamenti. Non ci sono assolutamente più filtri. Quando le responsabilità possono essere scritte anche a una cattiva gestione della sanità. Nuccio, volevo dirti poi un'altra cosa, poi nello specifico quanto appunto hai detto poco fa riguardo all'attuale commissario. Io poi ieri ero nel dubbio sulla vicenda che era uscito fuori nel corso della trasmissione, perché poi le notizie vanno confermate e verificate. Quella in cui questo audio riguardo alla mascherina fosse uscito il giorno 27 luglio, il fatto strano è che il giorno dopo, la mattina, lo stesso commissario ha detto che l'audio era di marzo. Poi ieri sera ho sentito la conferma proprio di chi aveva fatto questo video, di quanto era uscito in questa trasmissione, appunto confermata, la data del 27 luglio. Io direi che ancora una volta il tentativo di giustificarsi è peggio. Certo, è peggiorno. La pezza è peggiore del buco. Perché la menzogna, onestamente, è la peggiore degli accettamenti. L'unica cosa, non so se voglio concludere, no, un sorriso perché su queste cose non c'è da sorridere, però io stamattina ho esordito con, è in atto un derby, drammatico derby tra Lombardia e Calabria. Non so se anche tu hai visto la trasmissione ieri sera, report su quello che è venuto fuori anche della sanità in Lombardia, riguardo alla gestione delle apparecchiature. Nello specifico si parlava dei caschi per la respirazione della CIPAP che non sono stati assegnati agli ospedali che in assoluto hanno avuto il massimo problema, quelli di Nembro e di Arzano, perché si erano dimenticati di mandare l'ordine. Cioè, a un certo punto io dico, ok, noi stiamo inguaiati, però non è un malcomune mezzognaio, è un malcomune totale disastro. Davvero c'è un derby pauroso. Però se da una parte giustamente quello che tu dici fa pensare a queste cose, dall'altra a me viene da pensare che se questo succede in una regione, diciamo, evoluta, in una regione dove noi facilmente emigriamo per trovare risposte in condizioni normali, bisogna ricordare che al di là di ogni cosa 300 milioni di euro ogni anno migrano verso altre regioni per quello che è l'emigrazione sanitaria nostra, insomma. Ebbè, c'è da pensare, se questo sta succedendo e trova impreparata una regione come la Lombardia, come il Piemonte, regioni evoluti con un sistema sanitario, basta pensare che per esempio in Lombardia ci sono 2000 posti di terapia intensiva e noi ne abbiamo solamente in tutta la Calabria, non più di 120. Ebbè, ma che cosa può succedere se veramente arriva un'onda d'urto serissima laddove non siamo normalmente in condizioni normali, in ordinaria amministrazione, di dare un servizio che sia un servizio civile, dopo 11 anni di commissariamento. E questa è la fase drammatica. Poi ho accennato anche in trasmissione che si scandalizzavano del debito di 99 milioni di Catanzaro e io ho inserito il discorso del miliardo di euro di debito che ha maturato l'ASP di Reggio Calabria. Certo, certo, che appunto faceva parte della precedente denuncia. Nuccio, noi teniamo sempre l'occhio vigile su queste cose qua, speriamo che queste situazioni, onestamente, con tutte queste cose alla fine ci sia una sveglia. Come diceva l'ex comandante, adesso senatore De Falco, non vediamo l'ora che ci sia qualcuno che salga sulla pilotina e urli, salga a bordo, eccetera, eccetera. Non lo dico perché siamo mattina, se fossimo la sera l'avrei detto. Noi lo diciamo ancora adesso, tutti quanti i calabresi, a chi deve salire a bordo e comandare in un porto sicuro la situazione della sanità calabrese, definitivamente magari. Stiamoci vicino, stiamoci vicino perché trattare di questi problemi non è sicuramente qualcosa di agevole. Quindi sia per voi che per noi ti posso assicurare che comportano rischi notevoli. E ridiamo ancora, importanza, io credo, molta importanza strategica all'informazione perché l'informazione, quella giusta, quella basata sulla verifica dei dati è quella che forse ci può aiutare a salvarci, a far salire qualcuno a bordo. Appunto, comunque anche il vostro impegno, soprattutto dei giornalisti, diciamo che stanno sul territorio, cioè i giornalisti non di grido, perché chiaramente quando si applica un giletti a tutte le misure di protezione possibili e immaginabili, mentre quando lavorate voi sul campo, lavorate come su un trapezio senza rete al di sotto e quindi veramente è incomiabile anche il vostro lavoro. E c'è bisogno di mani che ci vengono a prendere nel momento del bisogno, come succede col trapezio. Assolutamente, assolutamente. Ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo, Lucio, ci risentiremo, avremo ovviamente altre occasioni, magari buone occasioni, lo speriamo sempre, per risentirci. Ciao, ciao. Grazie, grazie, buona giornata. Grazie. E con Nuccia Zara chiudiamo, con questa diretta, chiudiamo il nostro Touring Café di questa mattina. Già fremono gli amici del Buongiorgio, si vede dal mattino, io gli do immediatamente voce per continuare. La visione è con noi di Touring 104 e saluto ovviamente i miei sponsor, i vostri amici winner bar, o bar winner se preferite, di Corso Garibaldi ma anche di Gallico, aperto per asporto dalle 5 fino alle 21 ma anche a vostra disposizione per consegna a domicilio e il vostro Caffè in Cialde, il vostro 3 preferito, i vostri infusi delle migliori qualità di Clic Caffè anche con gli oggetti da regalo scontati al 10% per il primo e il 15% dal secondo in poi fino a esaurimento. E fatelo perché siamo vicini alle vacanze, non si sa mai quello che può succedere da domani in poi. Vi lascio con Clear Bandit.